ciao siamo bene bene allora veni dietro con le gambe faccio un dietro con le braccia vai 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 sei 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 ci siamo eh legatemi eh venga libero si che le sinocchia stendici sopra in avanti prendi le gambe allora l'unica cosa stai attento con la mani se non ti piaccia a conto quando sei fuori apri le mani ok grazie ciao 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 Ma qua anche la grandine, la tite. Eh, la tornò dagli occhi, non vedi nulla. No, vabbè, ma lassù, quando pioveva si non veniva. È arrivato adesso? Metto giù? Sette.